In un weekend pieno di festa di saghe sull'altipiano classico, tiriamo un bilancio di questa riscoppia piccina in formato salare? Sono molto soddisfatta, c'è tanta partecipazione, vedo tanti bambini, adesso c'è stata l'esibizione del Cisnes Millennium con tanta partecipazione, direi una bella serata, nonostante questa nuvoletta di fantozzi. Senti, siamo davanti alla trattoria Max che è piena di gente che mangia. Sì, sono contenta di vedere tutti questi locali che hanno abbastanza gente, spero che siano soddisfatti.